Dopo il rilascio della tartaruga a Giunone, le acque di Baia Flaminia, in poco più di un mese, hanno accolto un secondo rettile. È stato oggi il turno di Laura, una piccola caretta caretta di 25 centimetri e di circa tre anni di età, affidata al suo habitat naturale dopo essere rimasta in cura per un anno e mezzo al centro di recupero tartarughe marine di Riccione. Si tratta di un centro gestito da Fondazione Cetacea che nel marzo 2022, seguendo da vicino l'abbassamento improvviso della temperatura marina, ha captato lo stato di ipotermia in cui versava la piccola tartaruga bloccata da una paralisi alle pinne anteriori. Dopo un lungo percorso di fisioterapia terminato con un periodo presso la caletta per la riabilitazione di Pesaro, Laura ha ripreso l'utilizzo delle pinne anteriori in maniera coordinata, dimostrando di poter vivere libera nel suo ambiente naturale. Ambiente al quale si è oggi riaffacciata fra la curiosità degli alunni di alcune scuole primarie di Pesaro e sotto l'occhio attento del comune rappresentato oggi dagli assessori Conti e Vimini. È una giornata che è stata organizzata per, da una parte, far vedere ai ragazzini delle scuole il lavoro che noi facciamo. La Fondazione Cetacea cura le tartarughe marine, ma non solo, si occupa del mare e della sua salute e quindi quando abbiamo un risultato come questo di Laura, ci piace condividerlo soprattutto con le nuove generazioni perché sono i più ricettivi e raccolgono di più il messaggio. Il messaggio è molto semplice, noi siamo come loro, siamo parte della natura e abbiamo l'obbligo di offrire la nostra assistenza a chi sta male in natura. L'abbiamo portata qui alla caletta per fare fisioterapia in acqua di mare ed è cambiata in modo radicale, cioè da una tartaruga molto immobile, poco motiva, a una tartaruga invece molto veloce, molto abile, molto capace di muoversi e quindi abbiamo deciso di liberarla proprio qui a Baia Flaminia dove appunto la caletta delle tartarughe ogni anno offre la possibilità di ridare la salute degli animali per poterli rimettere poi in mare.